eccoci qua siamo arrivati all'ultima tappa di questa nuova edizione del happy hour con la CGL buonasera Patrizia eh buonasera mi dispiace tanto io quando arriva la fine delle cose poi mi sento già la nostalgia praticamente ma già starai pianificando nuove avventure immagino no? Sì ce l'ho già in testa come vedi siccome appunto oggi si conclude il viaggio io mi sono già messo in macchina così faccio prima no sì ci tenevo nonostante eh appunto impegni che che mi impediscono di stare diciamo davanti a una scrivania però ci tenevo visto che appunto si conclude questo ciclo che anche quest'anno eh ha avuto un grande successo a a un riscontro ormai di un pubblico che si è affezionato a questa formula questa idea del sindacato che oltre a fare naturalmente la sua attività canonica diciamo così propone anche dei momenti di appunto cultura di partecipazione per quanto a distanza nasce con il covid un po' questa idea ma naturalmente poi la stiamo portando avanti perché insomma alle persone evidentemente piace fare questi viaggi in nostra compagnia. saluto anche il nostro storico Amedeo Zupi buonasera Amedeo questa sera avremo un'altra delle sue pillole e poi naturalmente i protagonisti Elena Jacopo di Stradanova Slow Theatre che stasera ci porteranno insomma al gran finale di 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 questa bellissima storia che nonostante i tanti secoli eh di 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 età ci ha fatto ci ha dimostrato in queste settimane una grande attualità no? Che è stata riscontrata anche nei commenti delle persone che ci seguono Patrizio. Sì eh io ti devo dire che con quello che è successo l'altro giorno la tragedia una delle tante insomma in ordine di tempo eh quella di ieri l'altro davanti alle coste calabresi. ho pensato moltissimo a quando magari eh Ulisse lascia Calipso e perché ha quasi la certezza di tornare verso casa poi succede di tutto e e non potevo dirgli non dovevi partire. Eh esatto. No capito mi è venuto in mente che di non dovevi partire mi sembra una cosa proprio inappropriata oltre che no c'è di mezzo un'umanità chi ce l'ha chi non ce l'ha certamente no? però eh e ciò dimostra che comunque il mondo non è proprietà privata di qualcuno il mondo è di tutti quindi se le persone vogliono muoversi anche liberamente per così perché vogliono muoversi ma soprattutto se spinti da necessità gravi come quelle dai quali scappano fuggono moltissime di queste persone eh non possiamo dire dovete stare lì. dovete morire lì no eh chiaramente la disperazione specialmente quei bambini piccoli perché poi è stata data la colpa no? vergogna irresponsabile vi muovete eh con bambini piccoli. eh dove appunto alla frase non devono partire eh la parola partire raccrociata è sostituita con la parola morire quindi non devono morire questa è la frase che avrebbe dovuto dire un ministro. sì poi il cordoglio magari dura qualche giorno non si fanno scelte politiche interessanti che sarebbero normali allora quindi corridoi umanitari per chi scappa perché c'è bisogno no? di un'accoglienza anche temporanea l'abbiamo fatto per gli ucraini e quindi non vedo perché non dobbiamo farlo per chi viene dalla Siria dall'Afghanistan insomma da da questi posti che non sono stare lì non è una passeggiata di salute no? lo sappiamo bene e poi soprattutto invece in generale una eh diciamo un modo legale delle leggi delle norme legali per entrare in Italia in modo normale a cercare un lavoro anche con delle regole diciamo abbastanza ferme come c'è in molti altri paesi no? cioè prima di avere la carta verde americana ci vuole un bel po' no? Devi dimostrare che lavori però non è che ci vai con un barcone negli Stati Uniti d'America no? cioè voglio dire eh e quindi manca una legislazione per cui tutto quello chiunque arrivi da noi è è un clandestino perché di fatto non c'è un modo legale per venire questo però per quello che riguarda l'immigrazione normale chiamiamola così per quello che riguarda i rifugiati invece ci sono delle leggi internazionali la nostra costituzione quindi l'accoglienza immagina se Nausica avesse ributtato a mare Ulisse per dire cioè invece di di lavarlo di accoglierlo nella reggia eh l'avessero rimandato a morire e a mare insomma voglio dire e quindi ho pensato molto a questo viaggio che stiamo facendo con quello che ahimè è successo in questi giorni e questa era una premessa perché mi sembrava insomma me la sentivo dentro di dirlo e quindi possiamo anche cominciare e iniziamo oggi con il nostro Amedeo se non sbaglio giusto? Eccomi pronti si comincia lui comincia lui buona visione a tutti un saluto da parte mia e alla prossima avventura allora Patrizio non ci sono più io non ci sono più eh sei ci sei ti sentiamo ah ecco ah no mi sembra che mi avesse cacciato fuori grazie grazie Fabrizio ti saluto e ti ringrazio ora perché naturalmente poi hai un altro impegno perché sei stato veramente come al solito beh professionale ed efficiente lo sei sempre ma sei stato anche molto caro e poi mi piace perché ti piace cioè le cose che piacciono non le fai per lavoro ma le fai perché ti piacciono è anche più gradevole grazie ancora ciao buon proseguimento ciao Fabrizio allora e dunque in maniera molto breve dirò qualche darò qualche informazione su una figura storica che riguardo a questa nostra piccola avventura sulla Odissea e ha un particolare importanza si tratta di Pisistrato chi era Pisistrato? era un Ateniese un Eupatride che cosa voleva dire essere un Eupatride? era nato in una famiglia nobile e come tutte le altre famiglie nobili disputava il potere sulla sua città, sulla città di Atene siamo nel VI secolo a.C., in quella che viene definita l'età arcaica della civiltà greca classica e Pisistrato con una serie di vicende che per obvi motivi di tempo non citerò riesce per una prima volta a prendere il potere in qualità di tiranno di Atene poi subisce una sconfitta politica Atene va in esilio ma dopo qualche anno ritorna e da quel punto in poi governa Atene per un lungo periodo scontrandosi a volte e accordandosi in altri casi con le altre famiglie gentilizie e le altre famiglie aristocratiche che avevano potere nella sua città siamo già nella fase della polis non è più il regno dei palazzi di Odisseo che abbiamo visto nel racconto di Elena e Jacopo riguardo all'Odissea una società complessa, complicata, spesso lacerata da grandi divisioni da grandi conflitti e in alcuni casi si afferma un governo forte nelle mani di una persona sola che appunto viene definito non più re perché la fase monarchica si è ormai conclusa ma viene definito tiranno noi oggi a questo termine diamo un valore negativo per noi tiranno è un prepotente è uno che si impadronisce del potere che opprime eccetera eccetera nell'epoca di Pisistrato il tiranno era un termine abbastanza neutro era una situazione oggettiva una persona che assumeva il governo di una comunità Pisistrato a noi interessa perché tra le tante cose che ha fatto io le accennerò brevemente Pisistrato ha avuto anche il merito di trasformare in testo scritto quello che ormai erano delle opere di grande rilevanza di grande importanza per la cultura greca trasformare in testi scritti appunto sia l'Iliade che l'Odissea e lo fece perché tra le tante cose che aveva fatto aveva fatto anche ad Atene una grande biblioteca e quindi nella grande biblioteca che aveva fatto ad Atene voleva che ci fossero ovviamente biblioteche per come erano a quei tempi insomma non c'erano ancora libri decide di far fermare noi sappiamo che fino ad allora l'Iliade e l'Odissea erano state affidate alla trasmissione orale e questo ovviamente aveva comportato una grande mutevolezza e una grande incertezza dei testi perché ogni aedo che si esibiva nella recitazione di questi due poemi ci metteva del suo e non essendo in contatto molto spesso dicevano cose diverse noi ovviamente non sappiamo se il testo che è pervenuto a noi è quello di fatto scrivere da Pisistran perché sia l'Iliade che l'Odissea hanno poi subito revisioni soprattutto nella grande biblioteca di Alessandria ma poi anche in seguito a Bisanzio a Costantinopoli eccetera però sicuramente lì c'è la svolta non è più qualcosa di evanescente e continuamente mutevole si comincia a ragionare su testi scritti poi in Italia arriveranno prima delle traduzioni in latino ma in epoca imperiale soprattutto nel periodo di Nerone poi andranno disperse ma soprattutto poi nel Rinascimento verranno recuperati alcuni testi portati dai fuggiaschi da Costantinopoli ormai caduta in mano ai turchi e da allora abbiamo un testo consolidato quindi è un personaggio molto importante è un tiranno descritto come un tiranno saggio addirittura da un giudizio positivo della sua azione di governo addirittura Aristotele quindi insomma giudizi di un certo peso ha alcuni tratti in comune con il nostro Odisseo perché anche lui è abbastanza ingegnoso spesso organizza inganni per raggiungere degli obiettivi ma nel complesso è una persona che svolge un'azione di governo contenendo lo strapotere dei nobili e cercando di favorire le attività produttive il commercio la piccola proprietà terriera che era la stragrande maggioranza del popolo della sua polis e così via quindi nel complesso svolge un'azione moderata di governo a favore dei più e tra l'altro tendenzialmente rispettando almeno formalmente le leggi perché ormai le polis greche si sono dotate in molti di leggi scritte anche nel caso anche di Atene rispettando almeno formalmente le leggi che si erano date a lui succede un figlio Ippia che purtroppo poi sarà espulso da Atene e tradirà Atene e tornerà con l'armata persiana sconfitta a Maratona però nel complesso diciamo c'è un ricordo positivo di questo personaggio ha fatto cose molto importanti e per esempio il primo che batte moneta ad Atene ma voi sapete che l'introduzione della moneta aveva un'importanza determinante per il commercio favoriva molto il commercio non era più lo scambio di beni ma si poteva mediare tramite la moneta insomma fa tante cose positive appartiene a quella fase che Odisseo non conosceva Odisseo è re la civiltà micenea è ormai finita la realtà si è trasformata l'assemblea popolare adesso ha dei poteri reali non è più una cosa molto aleatoria come abbiamo visto nell'Odissea è una realtà diversa però questi due personaggi in qualche modo hanno qualcosa di comune un'attenzione a un benessere della propria comunità una grande ingegnosità nel governo e anche qualche furbizia concediamogliela io mi fermerei qui arrivo arrivo scusate eccoci sto perdendo la manualità con lo strumento del computer grazie Amedeo è stato molto importante secondo me questo cappello introduttivo su Pisistrato perché come dice il titolo stesso del nostro ultimo appuntamento che è per sempre sia re insomma anche il nostro Odisseo finalmente prenderà il potere di nuovo e darà vita con un termine sì che ci ha detto Amedeo è un po' scorretto una sorta di tirannide illuminata chiamiamola così sì che è un re non è un tiranno è tecnicamente diverso un'epoca quella che inaugurerà il nuovo Odisseo quello tornato dopo vent'anni sarà un'epoca in cui la produttività della terra e il commercio avranno un ruolo fondamentale insomma Odisseo darà vita a un'epoca di pace e di prosperità molto in contrasto con l'epoca delle ruberie con cui si era conclusa la guerra di Troia è molto interessante questa cosa di Pisistrato e Odisseo che sono due personaggi che si specchiano l'uno nell'altro da una parte c'è il personaggio letterario Odisseo e dall'altra Pisistrato che è il personaggio storico ma è l'uomo reale davvero esistito io so anche io so molti aneddoti su Pisistrato di quelle furberie che diceva Amedeo che però non ci ha detto io ne so uno che non so se è vero non vedevamo l'ora aspettavamo solo questo momento ma non è una bazelletta perché la Galvania ha gli aneddoti su Pisistrato così me li raccontava mia no davanti al focolare e noi sentiamo no no perché è interessante a me raccontavano Cappuccetto Rosso ma invece sentiamo Pisistrato dai quando Pisistrato doveva rafforzare il suo potere perché insomma la presa del potere da parte di Pisistrato è stata una cosa abbastanza insomma travagliata ha dovuto combattere molto insomma e ricorrere a vari stratagemmi per raggiungere il potere a questi stratagemmi ce n'è uno più bello il più bello è quello è quello del fatto che lui una volta si trovava in campagna e incontrò una fanciulla una contadina una ragazza sconosciuta ma particolarissima perché era una ragazza altissima molto bella con tratti un po' androgeni e lui la prese la travestì dalla dea Atena cioè le mise tipo l'armatura la lancia lo scudo la mise su una su un carretto e se la portò eh triunfalmente ad Atene e gli Atenesi vedendo questa donna straordinaria particolarissima credevano veramente che si trattasse di un'incarnazione della dea Atena e dice guardate Pisistrato che ha il favore degli dei è una cosa molto cioè è una cosa molto pittoresca però la dice lunga anche se come questo personaggio sapesse insomma fare marketing di se stesso sapesse proporsi avesse inventiva cioè ragionasse anche in modo fuori dagli schemi no voglio dire ed è una cosa che ce lo fa avvicinare Odisseo anche per il nome di Atena no che è la protettrice di Odisseo vabbè come ha detto Amedeo Pisistrato fece questa cosa essenziale di mettere per iscritto su papiro quindi su materiale durevole i testi dell'Iliade e dell'Odissea quindi è grazie anche a lui se sono stati tramandati e se sono arrivate fino a noi dobbiamo ringraziarlo tutti e pensate che lo amava così tanto Pisistrato amava così tanto l'Odissea che organizzò delle letture pubbliche un po' come ha fatto la Patrizia diciamo queste letture pubbliche in cui faceva io e Pisistrato legati eh eh sì adesso devi prendere il comando della SPI dello SPI praticamente ti rimane a fare ma per carità c'è già chi ci pensa egregiamente c'è già chi ci pensa egregiamente non ti preoccupare ok vabbè abbiamo scherzato anche l'ultima puntata no però è vero cioè è una diceria questa della de'Atena travestita però insomma è tre i pettegolezzi tre pettegolezzi storici no comunque dato il personaggio è molto probabile che avesse un fondamento di verità eh se ne inventava tante lui eh sì sì era molto Odisseo ok dunque c'è una tesi interessante di alcuni studiosi che dissero che siccome diciamo che il primo la prima evidenza di una scrittura come diceva anche Amedeo dell'Odissea è data proprio nell'epoca di Pisistrato per sua per sua volontà alcuni storici addirittura sono arrivati a sostenere senza troppe prove che fosse stato Pisistrato stesso a far scrivere l'Odissea quasi come se fosse una sua biografia letteraria artistica e questo sposterebbe di due secoli indietro no la stesura dell'Odissea o un importantissimo filologo e studioso dell'Odissea che è Di Benedetto in realtà dice no vabbè questo non è possibile l'Odissea è assolutamente risalente all'ottavo secolo settimo secolo i primi le prime testimonianze scritte insomma però Di Benedetto sostiene una cosa affascinante cioè che non sia stato Pisistrato a fare l'Odissea ma l'Odissea a fare Pisistrato cioè la potenza e la fascinazione di quest'opera straordinaria hanno moralmente e politicamente ispirato Pisistrato nella conquista di Atene e successivamente nell'amministrazione del potere emulando quell'Odisseo si sanguinario bisogna dirlo però giusto quel re che come un padre era mite per i suoi sudditi come ci dice spesso Omero comunque l'autore dell'Odissea bene scusate perdonate queste chiacchiere iniziali abbiamo finito e che ci sembrava una cosa davvero interessante da farvi notare da raccontarvi adesso ci possiamo immergere negli ultimi due libri dell'Odissea abbiamo finito l'ultima volta ci siamo lasciati in un bagno di sangue ricorderete dopo la strage dei Proci Odisseo Telemaco e i due fedeli servitori Eumeo e Filezio naturalmente con l'aiuto della Dea Atena hanno ucciso tutti i Proci e non solo tutti i Proci hanno ucciso anche le ancelle e i servitori che avevano di fatto tradito Odisseo insomma hanno ammazzato tipo centocinquanta persone per darvi un'idea anche filica della cosa quindi hanno disteso questa vera e propria montagna di cadaveri insanguinati nel cortile mentre loro c'è questa cosa molto macabra loro come delle massaie Odisseo e i suoi hanno ripulito le sale e hanno bruciato dello zolfo per purificare l'aria dall'odore del sangue ora i Proci chi sono sono i rampolli delle famiglie aristocratiche più potenti di Itaca e degli intorni di Itaca e l'Odissea è nonostante la poesia un poema molto concreto Odisseo sa che ha vinto una battaglia ma non ha assolutamente vinto la guerra perché le famiglie potenti che si ritrovano i figli uccisi in quel modo possono scatenare una faida una serie di vendette che alla fine potrebbero portare a una guerra civile e comunque alla messa in discussione di Odisseo che insomma è appena tornato non ha ancora ripreso in mano le redini del regno non ha ancora riacquistato pienamente il potere no? E Odisseo quindi cosa fa? Deve riflettere deve pensarci un attimo deve elaborare una strategia ha bisogno di tempo e quindi da abile commediante e anche da abile regista come abbiamo insomma abbiamo finito per conoscerlo no? Cosa fa? Mette in scena un vero e proprio spettacolo chiede a Femio se vi ricordate nello scorso appuntamento Femio è la Edo cioè il cantore quello che cantava con la cetra ai banchetti il cantore che Odisseo ha risparmiato durante la strage perché l'arte nell'Odissea è stata salvata cosa chiede Odisseo a Femio? Gli chiede di mettersi a suonare una dolce canzone di festa anzi di più una canzone nuziale un canto di matrimonio che non è non è proprio quella da cerimonia si usavano dei canti che le ancelle in generale popolazione intonava quando si decideva un matrimonio in modo propiziatorio e Odisseo oltre a Femio chiede anche infatti alle ancelle alle ancelle fedeli che sono state risparmiate nella strage di cominciare a ballare e a far festa per far credere a chi è fuori perché la reggia è cinta da delle alte mura quindi chi è fuori non può vedere il cortile che è ricoperto di cadaveri chi è fuori può soltanto ascoltare quello che succede nella reggia e chi è fuori infatti sentendo questi canti queste risate questo suono di festa pensa che Penelope si sia finalmente arresa alla corte di uno dei proci e abbia finalmente accettato di sposarsi pensa è una cosa veramente no sarebbe da parlarne per un bel po' no su quanto siano bravi questi attori queste ancelle e anche Femio stesso che si mettono lì a inscenare una festa canti risate davanti a una montagna di cadaveri cadaveri di persone che loro conoscevano c'erano anche le ancelle che lavorarono assieme a loro che vivevano assieme a loro loro davanti a questi morti fanno finta di far festa è veramente macabro ma sarebbe una cosa da analizzare anche psicologicamente intanto negli appartamenti di Penelope al piano superiore che fa Penelope? dorme c'è stata la strage quindi gente che correva urlando gente che correva massacrando tavoli che si ribaltavano e lei dormiva perché dormiva non è perché sorda ma perché la dea Atena l'aveva narcotizzata diciamo siccome Penelope era un attimo stressata la dea aveva pensato che fosse il caso di farla rilassare un po' con un calice di vino dove probabilmente aveva sciolto una boccetta di Valium credo insomma com'è come non è sia durante la strage che durante la finta festa Penelope dorme tra l'altro del sonno più sereno tranquillo e felice che non abbia mai fatto da qui a vent'anni cioè da quando Odisso è partito e lei ha cominciato a piangere tutte le notti ma anche questo sonno ha una fine e tra l'altro finisce in modo brusco dato che Euriclea ve la ricordate Euriclea l'anziana nutrice quella che tutti trattano un po' pesci in faccia poveraccia l'anziana nutrice che era scesa a controllare cosa era successo e vedendo questo mucchio di cadaveri e il lago di sangue in cui lo stesso Odissio era immerso come un leone che ha appena sbranato dei buoi ci dice il poeta ecco Euriclea invece che prendersi un colpo ringiovanisce dalla felicità vede tutto questo sangue questi cadaveri e lei diventa una ragazzina che sale ai gradini con un'agilità incredibile tutta presa dall'entusiasmo corre alle stanze di Penelope balza sopra la testiera del letto della regina proprio questa proprio sopra sulla testa e la sveglia urlandole nelle orecchie sveglia sveglia e ritornato Odisseo li ha ammazzati tutti e una cosa meravigliosa viene ad abbracciarlo insomma bello stomaco Euriclea ora Penelope rimane sconvolta dalle parole di Euriclea anche per il modo in cui vengono dette insomma l'Alzheimer che vuoi fare? l'Alzheimer pensa Penelope pensa che abbia l'Alzheimer sì prima e avvisaglie e prima e avvisaglie beh no aspetta da prima Penelope sembra lasciarsi coinvolgere dall'entusiasmo di Euriclea e quasi quasi spera quasi quasi spera c'è un attimo in cui Penelope si abbandona al sogno che davvero Odisseo sia tornato che veramente abbia ucciso i proci e veramente abbia riacquistato il potere sono vent'anni che questa povera ci aspetta tre anni che fai disfa la tela che sta a piangere sono vent'anni che Odisseo cerca di tornare a casa e sappiamo tutti benissimo che cosa gli è successo in questi anni lei Penelope scende per andare a vedere chi è quest'uomo che ha fatto questa strage e che secondo Euriclea è il marito insomma noi come ce lo aspettiamo questo incontro dopo vent'anni è ovvio che noi vorremmo essere travolti da un'ondata di romanticismo vorremmo che partisse proprio via col vento e loro si vedono si corrono incontro che è strada ma Penelope è una tosta non sarà mai così eccola lo sapevo senti che partigiana vabbè si vedono si corrono incontro si abbraciano si baciano io avrei voluto questo perché sono così e vabbè mi sono per sempre invece contenti come in ogni fiaba che si rispetti no? ci appagherebbe un finale del genere ma questo in realtà è un film hollywoodiano e non è l'odissea sono ventitré libri che aspettiamo questo abbraccio e invece Penelope fa un passo indietro perché non può credere che quell'uomo sia Odissio ed Euriclea è pazza a crederlo oppure all'Alzheimer come dici tu no gli dice Penelope a un certo punto ma tu sei fuori hai perso la testa no Penelope pensa che se c'è stato un uomo che è riuscito a uccidere tutti quegli uomini con quella facilità non può essere Odissio sarà sicuramente un dio che vuole ingannarle è bellissima l'immagine che si crea perché i due sposi che non si vedono da vent'anni invece di corrersi incontro si trasformano subito in due scacchisti due giocatori di scacchi che si guardano in Cagnesco e se ci pensate non può essere altro che così perché l'Odissea ormai lo sappiamo ci ha abituato ad aspettare a ritardare a non essere mai veloci nelle emozioni nell'emozione nel non seguire mai la pancia nell'ascoltare sempre il pensiero prima di lasciarsi andare ai sentimenti e infatti i due si siedono altro che abbracci si siedono dai lati opposti della stanza due carizie si osservano quelle manzoni si osservano e devo dire quasi si insultano cominciano quasi a litigare e poi a lei viene in mente di metterlo alla prova insomma anche qui si potrebbe scrivere un saggio di psicologia perché l'intelligentissimo Odissio il grande commediante che tutti inganna si fa mettere nel sacco dalla moglie è così perché evidentemente se tanto mi da tanto Penelope è ancora più intelligente di Odissio insomma perché questi sono i fatti c'è la prova è una donna intelligente è una donna molto intelligente e come lo mette alla prova l'intelligentissima Penelope questo benedetto uomo forse lo ricorderete perché è famoso un aneddoto famoso no? gli parla di una cosa che soltanto lei e Odissio possono sapere vi faccio l'antefatto dopo le nozze Odissio aveva costruito il suo palazzo perché se l'era costruito da solo il palazzo e l'aveva costruito intorno a un enorme straordinario ulivo una pianta e la prima stanza della sua casa che era la camera nuziale era nata proprio attorno a questo ulivo e la costruzione era iniziata tirando su le mura della stanza nuziale attorno all'ulivo chiudendolo completamente quindi chi passava di lì non avrebbe mai potuto vedere cosa succedeva all'interno della stanza e che cosa era successo all'interno della stanza che Odissio aveva segato il tronco e poi si era messo a lavorare il legno come un artigiano raffinatissimo fino a ricavarlo un letto che era una meraviglia una cosa straordinaria un letto solidissimo perché le radici forti di questo enorme ulivo erano ancora poderosamente impiantate nel terreno quindi un letto inamovibile e allora Penelope cosa fa? dice a quell'uomo che ha davanti che in effetti che in effetti l'ha riconosciuto ma sì certo scusa mi sono sbagliata come ho fatto a non riconoscerti tu sei il mio adorato Odisseo però però guarda devo ancora metabolizzare tutte le emozioni e quindi per questa notte facciamo i separati in casa per favore dormiamo separati ma non voglio mica toglierti il tuo letto ti faccio dormire nel tuo meraviglioso letto nel letto padronale come si suol dire quindi dirò alle ancelle di prendere il tuo letto quel letto meraviglioso di portarlo fuori dalla stanza così potrai dormire fuori ma sul tuo letto anche Odisseo balza su inferocito preso dalla rabbia e anche un pochino tanto dalla gelosia e intima a Penelope dimmi chi diavolo si è sognato di segare il mio letto e a questo punto c'è la iniezione Penelope capisce che è davvero lui e finalmente può esserci questo benedetto happy end romantico che è un happy end romantico a tutti gli effetti perché lei gli salta il collo gli dice quanto lo ama quanto lo ha aspettato e che non è stata cattiveria ma la fede se non l'ha riconosciuto immediatamente no è che non poteva permettersi dopo vent'anni di pianto vent'anni di reclusione nelle sue stanze come una carcerata ecco non poteva dopo questi vent'anni permettersi il lusso di sperare perché la disillusoria sarebbe stata così grande da ucciderla e chi può darle torto bene io direi che possiamo leggere questo brano secondo me gliela voleva fare anche un po' pagare eccola eccola ognuno la interpreti eh beh certo poi ognuno la interpreta con la no andiamo a leggere andiamo a leggere andiamo a leggere da quando Euriclea viene mandata ad avvertire Penelope che deve scendere perché è arrivato il suo amato sposo ma al piano alto salì la vecchia fra grida di gioia alla padrona annunciando che in casa era giunto il suo sposo erano saldi i ginocchi scattavano rapidi i piedi sopra il suo capo ristette e le disse queste parole sorgi Penelope su figlia mia così ben vedrai con i tuoi occhi quel bene che preghi per tutti i tuoi giorni giunto è qui Odisseo è tornato a casa per tardi che fosse ha trucidato quei proci superbi che questa sua casa già funestarono e i beni mangiarono oppressero il figlio faria e resero pazza gli dèi che hanno tale potere da fare perdere il senno a colui che è molto assennato e da avviare a saggezza colui che era vuoto di mente te hanno fatta impazzire e già avesti savi pensieri ma come puoi dileggiarmi se ho l'animo pieno d'angoscia dirmi parole insensate e così destarmi dal sonno dolce che pure mi avvinse scendendo a velarmi le ciglia ora discendi su via e ritorna giù nella sala che senza dubbio se un'altra fra quelle che ho mie servitrici fosse venuta a parlarmi così e a destarmi dal sonno presto con aspro congedo io l'avrei costretta a tornare giù nelle sale di nuovo in questo ti giova vecchiaia no figlia mia non ti sto dileggiando no per davvero giunto è qui odisseo è tornato a casa è così come dico è lo straniero a cui tutti in sala facevano offesa già lo sapeva da tempo telemaco che era qui in casa e tuttavia con saggezza celava i disegni del padre sì che potesse punire l'oltraggio dei principi alteri disse e Penelope allora fu lieta e balzando dal letto cinse da bracci la vecchia e lacrime sparse dal ciglio e dispiegò la sua voce e le disse alate parole valia cara su dimmi davvero parola sincera se veramente è tornato a casa è così come dici ed in che modo ha avventato le mani sui proci impudenti solo com'era i nemici gremivano in folla il palazzo io non ho visto né udito non altro sentì il lamento d'uomini uccisi noi altre in fondo alle solide stanze ce ne restammo atterrite i saldi battenti erano chiusi intanto che dalla sala Telemaco sì il figlio tuo non mi chiamò il suo padre a lui comandò di chiamarmi dunque così vidi Odisseo in mezzo a quei corpi d'uccisi Ergersi gli altri d'intorno premevano dura la terra gli uni sugli altri giacevano avresti gioito a vederlo sporco di sangue e di fango com'era ed è uguale a un leone ecco che tutti oramai sulla porta là del cortile sono ammassati egli intanto la sala bellissima purga una gran fiamma fa ardere e a me comandò di chiamarti seguimi su che voi due possiate raggiungere entrambi nel vostro cuore la gioia poiché troppi mali soffriste non ancora non credi che egli ritorni mai in patria. Il tuo cuore è incredulo sempre. Valia, comprendere i piani dei numi di stirpe immortale, arduo sarebbe per te, eppure davvero sei saggia. Come che sia, scenderò da mio figlio, infine, a vedere gli uomini, i proci ormai morti, e insieme colui che li uccise. Dal piano alto ciò detto discese, e il suo cuore uscillava fra molti dupi, o restare discosta a sondare il suo sposo, o avvicinarsi a baciargli il capo, a tenergli la mano. E non appena fu giunta, barcata la soglia di pietra, e la sedette. D'innanzi a Odisseo, alla luce del fuoco, presso l'opposta parete. Odisseo, ad un'alta colonna, con gli occhi bassi, sedeva. In attesa che gli parlasse la valorosa consorte, vedutolo con i suoi occhi. Ella sede, muta, a lungo. Stupore le cadde nel cuore. Ora credeva d'aver ravvisato a vista il suo volto. Ora sembrava un estraneo, con misere vesti sul corpo. Vista che sei, all'eccesso fra tutte le donne gentili, duro hanno reso il tuo cuore gli dèi che andimora in Olimpo. Certo, nessuna altra donna terrebbe con cuore ostinato tanto a distanza il marito, che molti dolori soffrendo dopo vent'anni sia giunto alla cara terra dei padri. «Balia, su via, tu preparami il letto, così che da solo possa dormire. Costei chiude in petto un cuore di ferro». Ma di rimando gli disse Penelo, pericca di senno. «Tristo che sei! Oh, non sono io superba e non ti disprezzo. Ne sono troppo stupita, ma ben riconosco qual eri quando via d'Itaca andasti su nave dai remi bellunghi. Ora, su via, tu preparagli il solido letto, Euriclea, fuori dal talamo ben costrutto che eresse egli stesso, fuori spostando il suo solido letto, apprestate il giaciglio, coltri e non meno lenzuola e infine coperte sgargianti». Sì, così disse, a tentare il suo sposo. E Odisseo allora interpellò conturbato la sposa dai propri pensieri. «Questa parola che hai detta, oh donna, è angosciosa al mio cuore. Chi in altro luogo ha spostato il mio letto? E arduo sarebbe, anche per chi bene è esperto, se un dio in persona non giunga e facilmente lo sposti in un altro luogo a sua voglia. Non un mortale vivente fra gli uomini, e sia pur in forze, lo sposterebbe agilmente, che un grande segreto è nascosto nel lavorato mio letto. E io costruì, e non altri. Folto di frondi, mi crebbe in corte un cespuglio d'olivo, tutto in rigoglio, fiorente, era saldo, come un pilastro. Io lo recinsi, innalzai il talamo fino a compirlo, con delle solide pietre, e ben lo copersi dal tetto. Presi a piallare dal fusto il mio letto fino a compirlo, e lo adornai finemente con bronzo, con oro ed avoglio. Questo è il segnale che a te rivelo, e però non so affatto se sia rimasto dov'era il mio letto, o donna, o se ormai altri me l'abbia spostato tagliando alla base l'olivo. Sì, così disse, e da lei si sciossero cuore e ginocchia. Berri conobbe quei segni sicuri che Odissio svelava, e fra le lacrime incontro a Odissio corse, e le braccia gli gettò al collo, e baciò la sua testa, e infinite, e infine gli disse «Non adirarti com'è, Odissio, che più degli altri uomini tu sei accorto?» Ci inflissero strazi, ogli dèi, e ci ha negato restare vicini uno all'altra, godendo la giovinezza e giungendo alla soglia della vecchiaia. Ora, però, non provare rancore per me, non sdegnarti, solo perché non t'ho accorto così, non appena t'ho visto. Già, poiché l'animo mio, il continuo dentro il mio petto, era piaciuto che qualche mortale giungesse a ingannare me con parole. Fin troppi inventano perfide astuzie. Ora, poiché mai svelati i ben ravvisabili segni del nostro letto, che mai un altro mortale ha veduto, «Tu pieghi il mio cuore, per quanto inflessibile sia!» disse, ed in lui ben più grande destò desiderio di pianto, e pianse, stringendo la dolce sua sposa dai probi pensieri. «Vieni su, donna, nel letto entriamo, così che oramai, vinti da sonno suave, possiamo godere il riposo!» Ed essi, con gioia, riguadagnarono infine le usanze del letto d'un tempo. Ma non appena del dolce amore i due furono sazi, si dilettarono con i racconti, uno all'altra narrando, «Ella, la splendida donna, le angosce sofferte a palazzo, nel ritrovarsi davanti la folla funesta dei proci, che molte bestie sgozzavano i bovi e le flori dei greci, egli, la stirpe di Zeus, Odisseo, i dolori che inflisse ad altri uomini, e quanto egli stesso, afflitto, sofferse, tutto narrava. Ella udiva felice e non scese mai sonno sulle sue ciglia finché non ebbe narrato ogni cosa. «Di molte prove davvero, o donna, ci siamo saziati, noi, tutte e due, sia tu qui, che il mio travagliato ritorno desideravi, sia io, me, fra i mali Zeus e altri dei, antrattenuto, impaziente di giungere in terra di padri. Ora, però, che ambedue godemmo del letto agognato, alle ricchezze che io posseggo a palazzo tu, bada, quanto alle greggi che a me mietevano i broci superbi, molte ne razzierò io in persona, ed altre gli achei me ne daranno, finché non riempiano tutti gli stazzi. Io me ne andrò nel frattempo, nel mio alberato podere, a rivedere il buon padre, e troppo per me, rova angoscia. Donna, così ti comando, per quanto tu abbia saggezza, con il levarsi del sole, si diffonderà presto voce, quanto a quegli uomini, ai proci, che io trucidai nel palazzo. Ma, al piano alto tu sali, insieme alle donne tue ancelle, e resta lì, non spiare, non interrogare nessuno, disse, ed intorno le spalle si cinse così d'armi belle, fece destare Telemaco, e insieme il mandriano e il porcaio, e l'armi di Ares impose a tutti di stringere in pugno. Non esitarono allora, vestirono bronze a corazza, schiusero quindi le porte, e uscirono. Odissio era guida, già sulla terra sorgeva la luce, e di tenebra Atena tutti li avvolse, e poi fuori città li condusse in gran fretta. Bene, finito questo momentone di pathos, siamo veramente arrivati alla fine del nostro viaggio. Ultimo libro, ultimo giorno. l'Aurora sorge dopo una lunga notte durante la quale Odissio e Penelope stanno insieme, avete ascoltato, stanno insieme per la prima volta dopo vent'anni. Una notte, tra l'altro, lunga in maniera innaturale, perché Atena prattiene il sole per permettere a Odissio di riprendere un po' di forze dopo l'amplesso con Penelope, ma soprattutto dopo una notte intera passata a raccontarsi cosa è successo entrambi in questi vent'anni. Una lunghissima notte di racconti in cui, tra l'altro, Odissio tutto racconta, racconta tutto a Penelope, racconta di Circe, di Calipso, non di Nausicaa però, che è l'unica con cui non ha concluso niente, però questa bellissima principessa che l'ha colto senza chiedere niente in cambio ha fatto breccia nel suo cuore, c'è stato un brivido fra di loro, anche se poi non è successo assolutamente nulla, è rimasto tutto un pensiero soltanto, però di Nausicaa non le dice niente, vabbè, piccola ombra, piccola ombra, Vabbè, lo sappiamo io la Patrizia, ste cose. Ok. Assolutamente sì. Vabbè. Odissio, prima dell'alba, passa alla fase finale del piano per la riconquista del potere. Dopo aver raccomandato, avete sentito, raccomanda a Penelope di richiudersi nelle sue stanze, poveraccia, ma è l'ultima volta, è l'ultima volta. E quindi cosa fa? Esce nelle campagne circostanti, arriva al podere del padre Laerte, insieme al suo esercito, costituito da Telemaco, Eumeo e Filezio. Un bel drappellino di quattro soldati. Almeno è facile organizzare le manovre, perché è un esercito agile. Arrivato nel podere del padre, Odissio si trova davanti a un vecchio, vestito di stracci, sembra un senza tetto, che lavora a un campo. È più simile a un servo che al padre del mitico re di Itaca. La casa in campagna in cui Laerte si è ritirato dopo la partenza dell'amato figlio per la guerra di Troia, è la sua vera casa, la sua casa primaria. Non è che ci arrivano la villa al mare, la villa in campagna, la villa in città come la Barbie. No, è una casa, è la sua vera casa dove Laerte ha sempre abitato e che si è costruito da solo, grazie a un duro lavoro. E la reggia di Itaca, abbiamo sentito prima descrivendo l'inganno del letto, anche Laerte è stato Odissio a costruirsela. Insomma, Laerte, Odissio e Umeo, vi ricordate Umeo, il porcaio, sono tutti portatori di un modello positivo di produttività, di laboriosità, che si contrappone a quel modello parassitario incarnato da buona parte del ceto aristocratico di Itaca. Detto questo, Odissio si trova davanti al vecchio estremato padre. E anche qui, neanche qua ci dà, non c'è l'abbraccio neanche qui, addirittura, sapete cosa fa Odissio? Forse lo sapete, perché l'avrete detto anche voi l'Odissea. decide di mettere alla prova questo anziano padre. Io dico, chiunque lo legge rimane basito, perché non c'è un motivo tattico che giustifica questa scelta veramente crudele di Odissio. Forse, forse, è una cosa che sta a sottolineare a questo punto, nell'ultimo libro, l'incapacità di Odissio, dopo aver tanto sofferto, di abbandonarsi all'immediatezza dei sentimenti, di essere davvero Odissio senza nessuna maschera, senza protezione. E quindi cosa fa Odissio? Racconta la solita storiella, quella che abbiamo già sentito altre volte. Racconta alla Erte di essere uno straniero approdato da poco su questa terra, anzi, gli chiede e conferma, ma siamo a Itaca, vero? come a vedere che è proprio uno straniero che non ne sa niente. E gli dice di aver avuto l'onore di ospitare nella propria casa il figlio di Laerte. E a questo punto Laerte, visibilmente emozionato, chiede allo straniero quanto tempo è passato da quando ha ospitato il suo unico figlio, perché Laerte ha soltanto Odissio. E alla risposta che sono passati ormai cinque anni, capisce che probabilmente il figlio ha fatto una brutta fine perché se in cinque anni non è riuscito a tornare da un percorso comunque breve, probabilmente non ce l'ha fatta. E quindi cosa fa? A un colpo si dispera, si getta a terra e si cosparge il capo con quella stessa terra che è la classica raffigurazione antica del lutto. E a questa vista Odissio non ce la fa più, cede e si palesa abbandonandosi ad un lungo abbraccio con questo vecchio padre. Ed è bellissima l'immagine di Odissio che deve sorreggere il padre nell'abbraccio perché l'emozione ha tolto al vecchio completamente le forze. Una cosa meravigliosa che noi adesso vi leggiamo ed è l'ultima cosa che vi leggiamo. È quando Odissio proprio arriva, giunge al campo e vede il padre e come lo vede solo suo padre egli vide in quel ben tenuto frutteto presso una pianta zappava, vestiva un chitone sdrucito e rattoppato indecente e intorno alle gambe allacciava delle gambiere cucite in cuoio a sottrarsi dai graffi contro le spine portava i guanti alle mani e di sopra sulla sua testa un berretto di capra accrescendo la pena. E non appena lo scorse lo splendido Odissio costante dalla vecchiaia disfatto soffrire aspra angoscia nel cuore pianto stillò si fermò all'ombra ad un pero irrigoglio ed esitò nel suo cuore nell'animo allora dubbioso e ricoprire di baci il padre e abbracciarlo e narrargli tutto in che modo giungesse e tornasse alla terra dei padri o interrogarlo da prima e su tutto metterlo a prova. Egli così dubitava e gli parve fosse più saggio metterlo prima alla prova parlandogli argute parole con quel proposito mosse lo splendido Odissio a incontrarlo a capochino sappava intorno alla pianta laerte dunque accostandosi a lui si rivolse il fulgido figlio vecchio non mostri di certo imperizia nell'accudire questo filare ma è ben curato e certo nessuna pianta in giardino difetta di cure né fico né vite non un olivo nemmeno un pero neppure un'aiola altro però ti dirò ma non porti collere in cuore tu per contrario non sei ben curato insieme vecchiaia lugubre e soffri e t'avvince squallore e dai misere vesti questo però dimmi adesso e svelami in tutta chiarezza di quale uomo sei servo e per chi il filare accudisci e dammi poi veritiera risposta a che io sappia bene se veramente noi siamo in Itaca come mi disse mentre venivo quaggiù un uomo che ho appena incontrato già poiché questo ti dico e adesso comprendimi ascolta là nella terra dei padri io diedi accoglienza ad un uomo al mio palazzo era giunto e non nessun altro mortale fra gli stranieri lontani più caro mai in casa mi giunse e si vantava di stirpe Itacese e ancora diceva che fosse suo genitore il figlio d'Archesio la Erte io lo condussi alla mia dimora e un buon ospite fui con ogni cura l'accolsi poiché c'era molto a palazzo quindi gli feci dei doni ospitali come conviene certo straniero hai raggiunto la terra di cui mi domandi ma la governano ormai degli uomini folli e superbi vani quei doni di cui fosti largo dandone tanti se in terra d'Itaca vivo l'avessi potuto incontrare ben ricambiandoti i doni t'avrebbe da sé congedato con accoglienza gentile e giusto per chi dona primo questo però dimmi adesso e svelami in tutta chiarezza quanti sono gli anni trascorsi dal tempo e tu l'accoglisti l'ospite tuo sventurato mio figlio seppure fumai oh per Odisseo questo è oramai il quinto anno che volge dopo che via se n'andò e dalla mia patria si mosse misero eppure partì con lieti presagi d'uccelli tutti da destra di cui io gioivo nel congedarlo egli gioì nel partire e l'animo nostro sperava di rinnovare accoglienza e scambiare doni stupendi disse e piombò sullaerte una nera nube d'angoscia egli con ambe le mani afferrò la cenere bruna se la gettò sulla fronte canuta fra mille lamenti ne fu sconvolto nell'animo Odisseo e per le narici acre l'impulso del pianto salì nel vedere suo padre e lo baciò l'abbracciò protesosi a lui poi gli disse ah sono io sono io padre mio colui di cui chiedi io che la terra dei padri ho raggiunta dopo vent'anni ora su frena il lamento e il tuo lacrimevole pianto se sei Odisseo davvero il figliuolo mio che ritorna ora tu dammene un segno visibile sì che io ti creda con i tuoi occhi da prima esamina la cicatrice che sul parnaso mi inferse un verro col candido dente ed anche gli alberi via qui nel ben tenuto frutteto ti elencherò che mai dati un tempo e di tutti io chiedevo giovane ancora nell'orto seguendoti noi fra le piante camminavamo tu ognuna indicavi a nome e svelavi sì così disse e da lui si sciolsero cuore e ginocchia ben riconobbe quei segni sicuri che Odisseo svelava e circondò con le braccia suo figlio e allora l'oresse era ormai senza fiato lo splendido Odisseo Costante ok bene e con questo abbraccio tra padre e figlio si chiude Odissea l'Odissea degli affetti familiari Odisseo il padre siamo allo spi cioè uno dei padri e quindi voglio dire la ERTE è iscritto allo spi io penso di sì perché è molto attivo non si cura perché non ha delle relazioni familiari sopra per il figlio però cura la proprietà cura la proprietà del figlio e quindi è un invecchiamento attivo poi quando torna il figlio secondo me tornerebbe insomma tornerà anche splendido penso anch'io sono proprio sicura siete stati bravissimi però manca ancora qualcosina perché l'Odissea non è finita cioè noi abbiamo finito di leggerla mancano 200 versi però che noi non vi leggeremo perché sono altre mazzate noi la chiudiamo con questo abbraccio col padre Odisseo ha incontrato il figlio la moglie il vecchio padre e si conclude l'Odissea degli affetti però in realtà ci sarebbero altri 200 versi in cui il poeta ci racconta come vanno a finire le cose a Itaca dal punto di vista politico versi che noi non vi leggeremo però sono versi importantissimi e quindi ve li racconto io brevemente e poi sarebbe bello se Patrizia è d'accordo anche aprire un minimo dibattito su questo su questo finale allora nella casa di Laerte Odisseo Telemaco Eumeo e Filezio quel famoso esercito di cui parlava Elena si preparano alla controffensiva e radunano qualche altro soldato per il loro piccolo esercito che notate bene passa da 4 a 11 soldati allora ora nel frattempo nell'isola si diffonde la notizia della strage non è che possa essere tenuta nascosta troppo a lungo e così i parenti dei Proci accorrono alla regia di Odisseo per recuperare i cadaveri dei propri cari e radunano l'assemblea ora questa è la seconda adunanza degli Itacesi del poema è l'assemblea che chiude il poema così come la prima adunanza l'aveva aperto chi ha partecipato al nostro primo incontro si ricorderà che l'abbiamo dedicato quasi interamente all'assemblea in cui Telemaco aveva condiviso con gli Itacesi la situazione insostenibile creata nella regia e aveva cercato anche il sostegno del popolo di Itaca contro i Proci e forse vi ricorderete anche che quella adunanza aveva messo in luce la crisi delle istituzioni partecipative dell'assemblea e del consiglio perché da un lato era emersa chiaramente l'insofferenza di una minoranza prepotente quella dei Proci di confrontarsi con il parere dell'assemblea e d'altro lato era emerso l'atteggiamento potremmo chiamarlo così di ignavia della maggioranza cioè del popolo itacese che pur non condividendo l'operato dei Proci non aveva preso posizione netta contro di loro e a sostegno di Telemaco insomma nell'indifferenza generale i Proci si erano abituati all'idea di poter mettere le mani sul potere bypassando qualsiasi tipo di iter istituzionale ora la seconda adunanza che chiude il poema e che vede coinvolti non più i Proci che ormai sono tutti morti ma i loro padri e siccome la stecca viene dal legno sembra che anche questa seconda assemblea sancisca definitivamente la fine dell'istituzione assembleare la situazione la situazione ormai sembra essere a tal punto compromessa la tensione civile è tale che le ferite non sembrano più sanabili in maniera pacifica e l'assemblea come luogo di confronto e in cui dovrebbe profilarsi la volontà della maggioranza appare totalmente disabilitata infatti ancora una volta viene imposta la volontà di una minoranza prepotente e violenta perché da un lato ci sono i padri dei Proci decisi a vendicare i figli assolutamente refrattari a qualsiasi tipo di autocritica e non disponibili a rinunciare alla possibilità di appropriarsi del potere ecco questi sostengono in assemblea la necessità della guerra civile cioè di un attacco armato contro Odisseo e i suoi sostenitori dall'altro lato c'è la maggioranza dell'assemblea che appare contraria alla guerra civile non vuole la guerra appare più propensa a restituire il potere legittimo al re ma che ancora una volta questa maggioranza non esprime abbastanza chiaramente la propria volontà e non prende posizione non è che non ci sia un minimo di discussione perché c'è chi mette in guardia gli tacesi dal mettersi contro Odisseo che sembra avere dalla sua gli dèi visto che Atena lo ha chiaramente appoggiato nella strage c'è anche chi prova ad analizzare le cause che hanno portato alla strage la quale strage è vero è stata brutalmente compiuta da Odisseo ma ha ragioni antiche individuabili nelle azioni folli dei proci azioni folli consumatesi sotto gli occhi indifferenti degli tacesi ma dopo un breve momento di discussione lo scioglimento dell'assemblea è reso con due versi icastici che sono questi quelli cioè i padri dei proci balzarono in piedi fra grida possenti più di metà tutti gli altri rimasero lì radunati cioè la maggioranza dell'assemblea contraria al disegno di vendetta dei padri dei proci rimane in silenzio e torna alle proprie case mentre la minoranza balza in piedi fra grida possenti e si arma contro Odisseo insomma scoppia la guerra civile e quando la guerra comincia non è facile farla finire perché si è superato un segno ci si è spinti troppo in là l'odio la sete di sangue del nemico la voglia di vendetta dell'una e dell'altra parte diventano sentimenti sempre più potenti e difficili da frenare e non c'è più spazio per le trattative e quindi come finisce il poema con una guerra che durerà per anni e decimerà la popolazione di Itaca no la conclusione è diversa ma è diversa perché entrano in gioco pesantemente quelle che potremmo chiamare le sfere superiori perché si tiene un vero e proprio summit sull'Olimpo in cui Zeus stesso decide che la guerra deve terminare e deve essere instaurato da autorità il governo di Odisseo per sempre sia re stabiliti patti sicuri questo è il verdetto di Zeus materialmente la guerra finisce nel momento in cui Zeus che dispone potremmo dire di armi di distruzione di massa manda un fulmine che atterrisce entrambe le parti e interrompe le ostilità per sempre sia re stabiliti patti sicuri ecco di questo verso noi per intitolare questo nostro ultimo incontro abbiamo scelto la prima parte per sempre sia re e non la seconda cioè i patti sicuri i patti di pace con cui invece tradizionalmente viene intitolato l'ultimo libro dell'Odissea perché a ben vedere questi patti di pace non sono il frutto di una trattativa diplomatica fra le parti ma sono il frutto di un'imposizione dall'alto con l'instaurazione di un governo sostenuto nelle sfere superiori e che si profila chiaramente come una vera e propria tirannide e qui chiudiamo il cerchio possiamo credere che probabilmente quella di Odisseo sarà una tirannide illuminata dopo tutto abbiamo sentito dire più volte che come un padre era mite ma come sappiamo i tiranni non sono sempre così grazie non hai il microfono Patrizia hai ragione grazie no dicoci potremmo rivolgerci anche noi all'Olimpo Amedeo in questa situazione evidentemente dove credo che pochi abbiano voglia di fare la pace ma mi è venuto in mente che come si dice il silenzio dei giusti faccia più danni dell'arroganza di pochi prepotenti perché se la maggioranza che non la pensa allo stesso modo tace evidentemente mi viene in mente il solito Dante dai ma anche Gramsci sulla non prendere posizione gli indifferenti eccetera infatti avete parlato spesso di indifferenza io penso che ci abbiamo avuto i nostri fedelissimi sì adesso ti do la parola fedelissimi amici Massimo Dorotea Brunetta cioè insomma e poi quelli che non vediamo perché come sapete chi non è su Facebook non lo vediamo lo vediamo solo dalle visualizzazioni successive che sono sempre tante e quindi come dire penso che possiamo tracciare un bilancio positivo Amedeo di quello che dovevi dire perché io poi ho dei saluti che vi devo portare a nome di di altra gente quindi io volevo solamente proprio prendendo spunto dalla battuta che facevi tu che noi in realtà non abbiamo Zeus ma avremmo l'ONU il problema è che l'ONU mi sembra molto più somigliante all'assemblea degli tacesi che non all'assemblea diciamo di una polis dove invece si decideva cioè prima parlavamo di Pisistrato Pisistrato era tiranno ma doveva fare i conti con l'assemblea perché l'assemblea decideva l'assemblea degli tacesi chiacchiera e poi dopo però ognuno fa come gli pare insomma a me sembra che l'ONU più o meno oggi ognuno dice la sua ma certo l'ONU non ha i fulmini però potrebbe in qualche modo essere un po' più efficace in ogni caso purtroppo le guerre lo dicevo l'altra volta si sa sempre come cominciano ma mai come finiscono e quando soprattutto finiscono è sempre meglio cercare di non farle però esatto quindi la pace invece di sempre essere la pace sia sempre quindi questo penso che possiamo così sottolineo che ci sono dei patti perché l'Odissea risette dell'influenza della società greca di Pisistrato più di quella reale Micenea per cui c'è un patto il potere di Odisseo si riafferma tramite un patto perché se no non era possibile basta evidentemente evidentemente allora vi stavo dicendo che vi devo portare i saluti e sono assenti naturalmente non perché non volessero esserci ma perché avevano degli impegni importanti il segretario della Camera del Lavoro che è Simone Pampanelli con tutta la segreteria e la nostra segretaria generale della CGL dell'Umbria Maria Rita Baggio che vi salutano ovviamente vi ringraziano ringraziano Amedeo ma Amedeo ti possono vedere più spesso e naturalmente Elena e Jacopo che vorremmo vedere il 23 di aprile che è una domenica pomeriggio a Città di Castello perché stiamo preparando un grande evento che speriamo sarebbe bello sì intanto non vi dico che cos'è perché la curiosità però è un grande evento che si svolgerà qui al Teatro degli Illuminati quindi questo mi sembra la cosa importante dopodiché l'altro giorno martedì passato mi sono collegata da Verona perché c'era il congresso nazionale del sindacato pensionato della CGL e mi è venuto in mente che era la città di Giulietta e Romeo e quindi Shakespeare mi è venuto in test ma poi ne parleremo chissà non si sa vedremo cosa ci porterà il destino va bene grazie a tutti a tutti ah no ricordo ancora mi raccomando che tutte le puntate ma di tutti i tre anni sono su YouTube quindi basta digitare happy hour CGL Umbria e quindi trovate tutti gli episodi magari mettete anche proprio il titolo di ogni episodio quello che volete rivedere o che vi siete perso eccetera eccetera e così lo dico anche agli studenti alle studentesse che vorressero approfondire dei pezzi sia di Dante sia di Manzoni che altri autori che abbiamo affrontato Alessandro Barbero de No Altri noi ci vediamo e ne studieremo delle altre dai Patrizia possiamo fare una piccola pubblicità noi del vostro film noi siamo molto questo periodo molto sotto pressione perché stiamo ultimando il montaggio di una serie tv in nove puntate che andrà in onda su una rete locale ma sarà visibile in streaming ovviamente anche in streaming quindi anche dall'Umbria andrà in onda dal 27 marzo prossimo alle ore 21 e quindi magari la pubblicizzeremo anche su Facebook lo vedrete è un'operazione molto interessante anche sociale perché raccontiamo l'oggetto della serie è Schweik il buon soldato Schweik immortalato prima dallo scrittore boemo Aschek e poi da Bertolt Brecht noi ci rifacciamo soprattutto allo Schweik di Brecht quindi con un'ambientazione seconda guerra mondiale ma la cosa interessante è che abbiamo costruito una grande compagnia di attori non professionisti e in gran parte formata da utenti dei centri di salute mentale Trentini e quindi lo stesso Schweik il protagonista sarà sarà che è un matto certificato sarà interpretato da un matto vero che ci ha fatto penare tantissimo è molto interessante e la serie tv racconta le avventure di questa matta compagnia alle prese con la rappresentazione di questo Schweik e alla fine anche se io già mi sono goduta tanto il vostro Adeichi sì il formato è lo stesso ma questa è una follia pura anche in Adeichi c'era la follia della guerra però in questo testo ancora di più tantissimo tramite anche la grandissima umanità dei nostri attori la follia della guerra e la volontà di essere pacifisti davvero è fortissima perché Schweik è proprio un antieroe cioè viene rappresentato il tentativo di combattere contro la repressione del regime nazista con l'arma della 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 resilienza o della la Gandhi tanto per intenderci eh? un po' Gandiano sì Gandhi in salsa comica però c'è è proprio un eroe della non violenza Schweik mandateci naturalmente vi manderemo in link perché io sarà mio io poi vi seguo sempre addirittura sono arrivata a vedere una puntata due volte quindi sono una ma no no perché insomma siete bravi mi piace bene salutiamo il nostro pubblico andiamo via dalla diretta e grazie chissà vedremo che cosa ci viene in mente ciao a tutti a tutti arrivederci arrivederci grazie a tutti